Alla festa del pane e della pasta 2022 è un importante scambio di riconoscimenti. Abbiamo dato un piccolo riconoscimento al nostro amico Ciccio per la possibilità che ci è stata data di partecipare a questa bellissima festa. Sono stati tre giorni molto intensi, però l'abbiamo fatto con passione e con il cuore. Una piccola dedica per ringraziarlo di questo. Io ringrazio tutto il gruppo Zicini in Vespa, sono degli amatori che è stato per noi, quando loro mi hanno presentato la possibilità di voler venire a Borgata Costiera, io naturalmente non dico di no, sempre nell'ottica dell'inclusione. Noi non vediamo niente di nessuno e poi tra l'altro sono delle persone speciali che comunque hanno una passione e amore verso quella Vespa che in questi giorni hanno dato anche colore, arredo e decoro a questa bellissima Borgata Costiera. Grazie, sicuramente ci saranno tante altre opportunità. Alla prossima, è stato un enorme piacere partecipare.